Allora, solitamente inizio l'intervista del Punto con la nostra colonna sonora, ma oggi è doveroso insomma, questa canzone è una canzone che ci ha fatto sognare e che continua a farci sognare. Il protagonista che l'ha scritta, l'ha interpretata è lui. È un cantautore davvero straordinario, tutto pugliese ma con un successo nazionale, ma lo vedremo decollare ovunque con noi Pier Davide Carone, eccolo qua. Grazie, grazie. Quindi oggi io sono la vostra sigla? Esatto, sei la nostra sigla perché vogliamo parlare di musica, inevitabile, e vogliamo ripercorrere con te tutta la tua carriera, partendo da amici, ma partendo anche da quando tu eri poco più che un ragazzino, perché sognavi la musica da quando eri proprio molto piccolo piccolo. Non svelarmi nulla, perché mentre ascoltiamo le note di questa canzone bellissima, mi racconterai tutto, anzi ci racconterai tutto questa sera in esclusiva. Ho una sorpresa per te. Ah, ecco. Una scheda che ti rappresenta, guarda. Se un artista indimenticabile come Lucio Dalla decise di scommettere su di lui, un motivo certamente c'era, dopo aver partecipi Puglia in generale. Si avvicina presto al mondo della musica, suonando a 14 anni in una rock band e poi in Eterra Ross. Quindi il grande salto nel 2009, quando fortemente evoluto da Grazia di Michele, entra a far parte della nuona edizione di Amici. Un anno dopo vince il Festival di Sanremo, come autore del brano Per Tutte le Volte, che è interpretato da Valerio Scano. Nel 2010 viene anche premiato per l'album di debutto, una canzone pop, come Multiplatino. Ha poi fatto da apri concerto a Franco Battiato e nel 2012 ha partecipato al 62esimo Festival di Sanremo in coppia con Lucio Dalla, con il brano Nani. Fu in quell'occasione che l'artista Bolognese... Beh, abbastanza intensa questa cartolina. Intanto voglio dirti che Imma Ceci, una delle nostre collaboratrici giornaliste, quando hai sentito quel momento di incertezza, perché quando l'ho chiamata per chiedergli di fare una cartolina su di te, lei era molto emozionata. e siccome aveva una certa predilizione per i confronti, ho detto farò molto fatica a fare questo audio, però ho così talmente tanta stima per questo cantante, quindi mi hai chiesto veramente una cosa bellissima, anzi promettimi di salutartelo. E ho detto assolutamente lo farò. Allora ricambio il saluto. Questo è quello che fai, ecco, a Imma, a tante donne, a tante persone che seguono la tua musica, perché poi di fatto tu, Pier Davide, parti dal grande successo di Amici, raggiungi il grande pubblico e proprio di lì voglio partire, cioè il successo in realtà non ti ha cambiato, perché noi vediamo insomma tanti altri ragazzi che col successo insomma fanno un po' appugni, tu sei sempre il ragazzo della porta accanto, sei rimasto sempre abbastanza collaudato sulle tue radici. Sì, perché la cosa che mi è servita nel fare Amici è stata quello di poter veicolare la mia musica a un grande pubblico. Io personalmente non sento l'esigenza per forza di espormi al di là di quello che faccio artisticamente e secondo me questo mi aiuta anche a vivermi un mio equilibrio personale che non mi fa andare fuori di testa, perché io ho quel tipo invece di popolarità che non sai mai se è una popolarità d'immagine un po' idonista, oppure una popolarità dovuta a quello che scrivi. Chiaramente Amici all'inizio soprattutto crea questo equivoco e quindi il rischio, soprattutto quando hai vent'anni, di non sapere più dove finisce la tua immagine, dove comincia la tua anima, il rischio c'è, è forte. Io ho cercato di rifugiarmi nella mia piccola nicchia musicale per evitare di impazzire. Senti, all'inizio dell'anteprima di questa intervista abbiamo parlato che la passione della musica scorreva nelle tue vene davvero da molto piccolo. Ecco, se ricordi una fotografia degli anni in cui ti approcciavi alla musica, che musica ascoltavi? Io ho ascoltato tanto i 45 giri e i 36 giri che avevano mio padre e mia madre, proprio perché in realtà il mio approccio alla musica è stato visivo, perché queste copertine grandi, con delle immagini meravigliose, io che le scarabocchiavo e mio padre che non mi ha mai picchiato per questo, e lo ringrazio per avermi salvato, perché poi erano anche dischi di valore. Poi ho scoperto che dentro questi involucri c'erano delle cose ancora più belle delle immagini, al di là delle immagini c'era della musica meravigliosa, erano i Beatles, era Dalla, io sono stato un fan di Dalla prima di lavorarci insieme, quindi pensa poi al privilegio dopo, e anche De Gregori, Battisti, Renato Zero, insomma mi ricordo che questi hanno accompagnato la mia infanzia, e poi ho cercato dopo, quando ho scoperto la chitarra, ho scoperto che era quello che avrei voluto fare. Poi quando un dodicenne arriva dai propri genitori... È inseparabile, perché noi tutti abbiamo degli amici, io ho il mio cagnolino, il mio barboncino in cui non mi separo, tu hai la tua chitarra, la porti ovunque. In effetti io, già da 12-13 anni, quando la mia prima chitarra mi è arrivata così addosso, e io dicevo ai miei genitori, io farò il musicista da grande, e loro all'inizio pensavano, vabbè, a 13 anni, cosa vuoi, un dodicenne, un tredicenne può dire tante di quelle cose che poi vai a vedere, no? Invece poi hanno visto che ero talmente serio, perché anche un ragazzino può essere serio nei momenti decisivi, e in effetti non ho mai cambiato idea, credo non la cambierò mai. Pier Davide, ovviamente me lo devi permettere, insomma tu sei un artista che io apprezzo personalmente, quindi te lo dico pubblicamente, proprio perché sei uno di quegli artisti che ha mantenuto proprio questo atteggiamento così pulito, così garbato, e del successo non è affatto solo motivo di vanto, ma tu hai continuato a studiare, a proporre sempre una musica più ricercata, con grande attenzione, come ha fatto con te un grande testimonial della musica, come Lucio Dalla, come dimenticare quel duetto incredibile a Sanremo? Infatti è una delle cose che probabilmente ha anche cambiato la mia vita ulteriormente, perché Amici aveva cambiato la mia musica in termini di dimensioni, chiaramente, non l'aveva sovraesposta, però incontrare Lucio Dalla, e soprattutto perché sai, era tanto facile che io andassi incontro alla musica di Lucio Dalla, ma che Lucio Dalla venisse incontro alla mia, quello era sicuramente meno scontato, e lui aveva questo sguardo qui sempre, cioè quando dicevano, no, dirigeva l'orchestra, lui non dirigeva l'orchestra, dirigeva a me, perché col suo sguardo era fisso su di me, non me li toglieva di dosso, perché era attento, anche preoccupato come farebbe, non lo so, uno zio, che tutto quello che facesse parte, insomma, di quel progetto, di quel disco e della mia carriera, fosse fatto a puntino, e credo che questo sia il regalo più grande che un genio così straordinario, insomma, io è come dire, no, se all'epoca di Da Vinci io avessi avuto velleità artistiche, e avessi incontrato un Da Vinci che in qualche modo sposava, ecco, nella musica italiana, e non solo, lui è un Da Vinci, e quindi quando incontri un Da Vinci, e un Da Vinci decide che gli piace la tua musica, non ci sono parole. Senti, qui vediamo una foto dove lui ti guarda davvero, tu sembravi veramente, insomma, in un momento, no, immaginagli che cosa, com'è stato quell'incontro, quella prima volta? La prima volta è stato agghiacciante, perché siamo stati a casa sua, e io gli ho fatto sentire le mie canzoni, io, devo fare una premessa, sono un pessimo playlister di me stesso, nel senso che faccio delle playlists tremende, soprattutto quando si tratta di inediti, e io dovevo convincere Lucio Dalla, non uno poi così, uno qualunque, dovevo convincere lui che doveva lavorare con me, e la prima canzone era tremenda, e quindi vedo la sua foto e ho detto, oddio, sto rovinando tutto, la terza canzone era Nani, lui stoppa e dice, vi porto a pranzo, nella mia testa era, vabbè, quantomeno posso dire che Lucio Dalla mi avrà offerto un pranzo, cioè per me la cosa era finita lì, torno a casa mia, dopo una settimana lui mi chiama, io non sapevo neanche che lui avesse il mio numero di telefono, lui mi telefona per dire, però sembra che non te ne frega niente di lavorare con me, una telefonata non la potresti anche fare ogni tanto, scusami, non avevo capito che stiamo lavorando insieme, e poi ho capito che faceva parte anche della sua, mettere in difficoltà le persone, era parte della sua strategia mentale, insomma, di tirar fuori il meglio. Pier Davide, hai avuto un grande maestro, che cosa ti manca di Lucio Dalla? Mi manca a volte la visione, prima nel servizio c'era il messaggio che lui mi ha mandato, ecco, quello era un messaggio visionario di un uomo che aveva visto qualcosa su di me, che neanche io avevo visto, e non so ancora se l'ho vista poi questa cosa qui, e lui invece l'aveva vista, ecco, a volte, sai, poi noi facciamo un mestiere molto complicato, alti e bassi, a volte sei su, vendi un sacco di dischi e riempi i teatri, e a volte sono in dieci davanti a te, e quindi questo ti fa rischiare no anche di perdere l'equilibrio o la consapevolezza di te stesso, invece, quello che mi manca è il fatto che lui invece fosse, completamente certo del fatto che il mio destino nella musica fosse appunto di prendermi tutto quello di cui avessi voglia, perché era in mio potere. Ecco, questa, ogni tanto mi piacerebbe risentirmelo dire, soprattutto in un momento come questo, dove è molto complicato per un cantautore capire dove la musica sta andando, perché viviamo una fase un po' transitoria, dove la musica sta cambiando molto, e io mi sono invece rifugiato nella tradizione. Ecco, a proposito di tradizione, questo è un omaggio incredibile dedicato a Lucio Dalla, Pier Davide Carone, che rivive proprio Piazza Grande. Era dovuto, io in questi dieci anni ho sempre cercato di trattare, un po' come tutto il resto, con discrezione il mio rapporto con Lucio, proprio perché non volevo diventasse speculativo, e quest'anno invece mi sono reso conto che anche al di là di quello che io volessi o non volessi fare, rispetto o dire, rispetto all'argomento Dalla collegato a me, c'era tanta voglia di tante televisioni, radio, mi hanno cercato nella settimana dedicata a Dalla, quella del primo marzo, la sua morte, il 4 marzo, la sua nascita, e quindi mi sono reso conto che forse alle persone invece mi interessa ascoltare quello che io ho da dire. Anche perché tu hai un pezzo di eredità importante, l'hai vissuto per l'ultimo periodo della sua vita, quindi immagino che sei pieno di segreti anche artistici che puoi condividere con quel pubblico che apprezza te, ma che apprezzava anche Lucio Dalla. Sì, infatti è questo che mi ha fatto cambiare idea rispetto al mio punto di vista, ho detto forse non è discrezione, ma rischia di trasformarsi la discrezione in egoismo quando tu non vuoi condividere invece una cosa bella, che non è il fatto soltanto di parlare appunto della sua morte, ma della sua vita prima della morte, di un pezzo di vita legato a me. E poi c'era la numerologia di Piazza Grande quest'anno, incredibile, perché lui la portò a Sanremo 50 anni fa, poi lui non tornerà più in gara per 40 anni, e 40 anni dopo tornerà in gara con me. E allora era l'unico modo per omaggiarlo. Sono convinta che lui ti sta apprezzando, ti sta guardando. Pier Davide, sono tante le cose che ti voglio chiedere, forse in mezz'ora non riuscirò a farle tutte, ma spero di averti ancora per altre volte. Sarò veloce nelle risposte. Ecco, una cosa che ti volevo chiedere, tornando a Lucio Dalla, quando lui ha osservato, ha sentito quella canzone Nani, quella canzone poi è stata così il momento cruciale, perché lui in fondo ti ha apprezzato in quel momento, ha capito che quella canzone poteva avere quel tessuto che ti avrebbe contraddistinto, a punto tale che quella canzone ti ha portato una fortuna incredibile. Quella canzone parla di una tematica molto delicata. Sì, era anche, oltre al fatto di dover portarsi dietro un macigno come Lucio Dalla a Sanremo e doversi quasi giustificare della sua presenza nella mia vita artistica in un palcoscenico come quello di Sanremo, in più c'era il fatto che io ero poco più che un ragazzino che veniva da un talent show e che portava invece a Sanremo l'amore tra un adolescente vergine e una prostituta, che quindi l'amore lo faceva di mestiere, di professione, lo vendeva. E per quanto il tema delle prostitute nel mondo della musica è stato quasi fin troppo sdoganato, pensiamo a De Andrè, insomma, ma lo stesso Lucio, chiaramente, però è diverso quando poi invece un ragazzino porta su un palco come quello una canzone che tutto era forché leggera, nel senso che le mie cose precedenti erano di notte, che sicuramente era una canzone intensa ma sentimentale, come autore avevo scritto per tutte le volte che per Scano, che era sicuramente di un altro... Ecco, Nani è la mia... Quando passi dal diploma, vai all'università, ecco, era il mio modo di dimostrare a me stesso, principalmente, che ero in grado anche di scrivere canzoni importanti. Questa cosa me l'ha fatta vedere Lucio, perché io non mi ero reso conto del peso che aveva Nani. Lui poi mi dice... Nani mi ricorda tanto 4 Marzo, io dico, ma sei sicuro? 4 Marzo è una canzone... Te lo sto dicendo io. Senti, Pier Davide, a proposito di Valerio Scano, hai portato una grande fortuna, perché, insomma, sei stato l'autore della canzone che Scano ha portato a Sanremo e che ha vinto quell'anno Sanremo, ma tu sei un autore non solo per Valerio Scano, ma per tanti altri artisti. Hai questa doppia versione, quello di interpretare, di scrivere anche per gli altri. È una cosa molto bella il fatto di poter sentire la propria arte addosso a qualcun altro, a volte essere un pochettino sarti per qualcuno, perché ora mi capita con più mestiere, chiaramente all'epoca ero inconsapevole, quella fu un'intuizione di Maria, che chiaramente di intuizioni ne ha avute non poche, però adesso mi rendo già conto quando scrivo una canzone, dopo che l'ho scritta, ha superato il momento un po' dell'amplesso creativo, che riascoltando una cosa dico ma forse questa canzone non assomiglia alla mia voce o al mio corpo, alla mia persona. E quindi cerco di capire chi potrebbe cantare una canzone così. Ultimamente è uscito il nuovo disco di Paolo Vallesi, dove dentro c'è una canzone, abbiamo scritto insieme, molto bella, si chiama Meglio di Niente, una canzone molto intensa, che parla anche di un bilancio della vita. effettivamente quella canzone non sarebbe stato giusto se la cantassi io, è giusto che l'abbia cantata un uomo come Paolo Vallesi. E questo è bello anche, darsi a qualcun altro a volte. Mi ha particolarmente colpito, seguendoti quando hai voluto parlare di quel momento, come dire, spiacevole, insomma, la vita ti ha messo di fronte a tante sfide, però tu, con la tua determinazione, col tuo garbo, col tuo silenzio, non hai mai avuto paura, ecco, di raccontare quello che hai vissuto e quello che vivi. Parlo di quell'incontro con quella parola che molto spesso si ha paura, no? E cioè il cancro. L'abbiamo visto in questi giorni il racconto che Fedez ha fatto. voglio chiederti che cosa ti ha spinto a raccontarlo? Mi ha spinto il senso di profonda gratitudine. E lì, come per Lucio, anche se sono due esempi chiaramente di cose molto diverse, però mi sono reso conto che i medici di Humanitas avevano fatto così tanto e fanno quotidianamente. Cioè, il mio oncologo è quasi un confidente, più che non è soltanto un oncologo. Ti manda il messaggino, come stai, come ti senti, sei stanco, così, come va la tua vita anche artistica, voglio venirti a sentire in concerto. Quindi c'è anche un rapporto umano che si crea. E allora, quando poi, durante il periodo del lockdown, che chiaramente ci si sentiva attraverso il telefono, perché era l'unico modo, il direttore della comunicazione di Humanitas voleva sapere, cioè mi chiama per sapere come stessi io, come stesse mio padre che in quel momento stava combattendo la sua di battaglia e dopo mi fa una battuta, mi dice ma quando è che la scrivi una canzone per noi? e io questa battuta l'ho presa molto sul serio ed è arrivata forse il coraggio perché ogni tanto bisogna anche dare l'occhio di bue su di loro che sono dietro le quinte, qualcuno, qualcun altro invece adesso ci sta davanti alle telecamere, però molti invece lavorano nell'ombra e salvano la vita di persone che invece poi magari l'occhio di bue se lo prendono sotto gli occhi di tutti, adesso no, nel caso di Fedez che è uno che sta davanti, però dietro di lui c'è gente che lo guarirà e quindi è importante ogni tanto girare anche la telecamera verso di loro. Come ti ha cambiato la malattia? Mi ha aiutato a relativizzare gli psicodrammi della vita che poi non sono tutto sommato questi grandi drammi perché chiaramente, ripeto, il nostro mestiere è molto faticoso dove a volte le cose non girano come devono girare e tu tiri fuori il peggio del tuo repertorio di turpiloquio che puoi avere dentro, no? E invece poi ti rendi conto che ti trovi sul filo del rasoio, ti trovi a parlare di cancro a 30 anni e dici ma com'è possibile? Ti trovi a dover star vicino a tuo padre a cercare di farlo sorridere anche se il suo odioncologo ti ha detto magari prima in separata sede guarda che non manca molto sono quelle cose importanti poi sì adesso non voglio fare la persona zen dove mi incavolo comunque se uno non parte subito quando scatta il verde al semaforo perché sono un essere umano Ma capita a tutti direi però poi dopo dopo mi viene da sorridere ma quanto so scemo Pier Davide quando senti la parola covid so che in particolar modo non soltanto come artista perché sono stati due anni che hanno messo alla prova tutti soprattutto gli artisti come te abituati a cantare davanti a tante persone ma questa parola ha colpito direttamente anche le persone più vicine a te ma in questo devo dire che è stato diverso cioè nel senso ci ha tenuto distanti perché mio padre si è ammalato appunto di adenocarcinoma polmonare e quindi è una malattia che andava anche trattata in un certo modo per cui quando poi è arrivato il covid c'era il rischio che qualunque gesto anche d'amore nei suoi confronti risultasse letale perché era molto più vulnerabile e quindi tenere le distanze cioè dover seguire un padre che sta combattendo una battaglia probabilmente persa già in partenza e non poterlo stringere non potergli stare vicino insomma è stato un effetto collaterale il covid che insomma ha reso difficile anche un momento che già sarebbe stato difficile comunque ha amplificato questa difficoltà sono convinta che lui ti guarda e ti apprezza per tutto quello che fai e per le parole che stai dicendo su tuo papà questo è un momento davvero da incorniciare nella tua memoria? beh sì devo dire di incontri ne fatti tanti speciali ne ho fatti tanti e ho scoperto che tra l'altro Papa Francesco insomma è anche un appassionato di musica e ha anche un profondo senso dell'umorismo perché credo che questa foto in particolare segnale un momento in cui perché lì c'era il mio ex manager che è Claudio Ferrante e che mi stava presentando come cantautore perché poi gli avevamo regalato una serie di dischi miei e gli aveva chiesto a lui e tu chi sei? ha detto io sono il suo manager ha detto e tu come fai a resistere vicino a un manager e ho detto ma non ti sei? e ho detto eh faccio quindi era anche brillante cioè conoscere ecco un uomo di mondo perché ogni tanto uno si immagina i papi che stanno su quest'area ma non sanno niente della vita in realtà mi sembra anche un uomo che conosca bene anche delle dinamiche lavorative artista manager una persona brillante devo dire allora hai ricevuto veramente un numero smisurato di premi perché elencarli tutti sarebbe praticamente impossibile però sono molto curiosa di chiederti invece che cosa bolle in pentola perché sicuramente i tanti telespettatori all'ascolto oggi vogliono sapere quando quando è pronto il tuo nuovo lavoro e soprattutto che cosa stai preparando tornerai a fare dei live dove potremo apprezzarti? sì questa è la cosa più importante perché io l'anno scorso sono uscito con un disco che è stato preso fin troppo in parola perché si chiama casa ed è rimasto dentro casa fin troppo perché non sono riuscito poi a portarlo in tournée quest'anno recuperiamo il fatto che l'anno scorso non siamo potuti andare in tour per i motivi che tutti purtroppo conosciamo e in più parallelamente a questo chiaramente quest'anno ci sono una serie di attività che è brutto anche definire collaterali perché io non considero la mia storia con l'uso collaterale ma anzi è principale alla mia vita quindi siccome quest'anno appunto cade il decimo anno dalla sua scomparsa ci sono una serie di attività che mi hanno visto coinvolto il culmine verrà raggiunto il 2 giugno perché sarò saremo con tanti grandissimi artisti amici di Lucio e anche grandi artisti contemporanei per Lucio all'Arena di Verona Lucio si prende ancora una volta il suo palco meritatissimo come ti immagini domani domani mi immagino come sempre con la mia chitarra addosso a cantare le mie emozioni e quelle della gente sperando che la gente abbia voglia poi di ascoltarle queste emozioni perché tanto io parlo di me ma parlo di tutti grazie davvero sono stata molto contenta di averti intervistato e ovviamente la Puglia è casa tua quando vuoi sei il benvenuto e torna pure a trovarci grazie davvero a Pier Davide Carona grazie a te grazie a te